jesus god dai cazzo ma è bella ragazzi sono tornati su un'altra vabbè siamo oggi con Killzone con sta stronzata che è una figata praticamente siamo sul nuovo DLC di Killzone Shadow Fall siamo su Intercept che si è rivelato essere uno spettacolo assurdo cioè veramente ragazzi se ci avete season pass scaricatevi Intercept perché è una modalità spettacolare è una cooperativa in multigiocatore noi ci saranno un bordello di bot e dovete ararli tutti nel contempo prendete un bot di punti no spettacolo provatelo ma ve lo fanno pure vedere provatelo in culatelo tatticismo ma ho fatto partire la registrazione del video quello vai a cagare sei un coglione se non ti ricordi te oddio non te lo so dire vabbè se non hai mai registrato ma faica io sento la musichetta però non inizia c'è già iniziato non avevo i punti bestegno non è vero ho detto sei brutto ma c'è figata quella moschera però la voglio anch'io Andrea mosca di merda oh ah dai era più bello il tattico vabbè la saltatore è una potenza a saltatore c'ha c'ha sto pisellone qui che incende il nemico ah è potentissimo oh vai 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 con rambo oh mio dio tripla ps mi sta ancora pure questo si oh ma naga avete già oh via via non passa è bugato non passa se è te che sei bugato va bene ma dai ma che coglionazzi prendilo c'è lì anche quel fumaggiano verde porco 2 sembra che c'è il goblin dove cacchio è è sopra sta scala è improponibile piglialo allora stai quasi qui raga sono stai impronta sono 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 un po' stanza importanti no perchè a parte che te rallentano perchè te lo metti nel culo allora non corri no e in pratica lo metti dentro un coso e quando lo metti dentro si tipo stanno il jetpack le mitraglie la mitraglia gigantesca però il problema è sopra è sopra eccolo no tipo stanno o le torrette il mortaio muove faccio vedere vedi il filo sta pesellando qua dentro e potrebbe così tac allora stanno queste qui questa vabbè vale il cazzo questa qui è potentissima ti apre il culo l'ira di dio boh ti apre perchè ti uccide anche a te questa ps prendo il jetpack ve lo voglio vedere ci tengo oh mio dio oh cazzo eh no vabbè se avete giocato a killzone sapete come funziona questo coso qui spara dindoni ti apre abbastanza e se sei un attimo in cacca salti fai così uuuu no 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 allora c'è sto saric no che in teoria sarebbe un boss se te lo trovi davanti non è che ti apri ti spacca ecco quello lì col pisellone morta no stai a morir male imbecille che cacchio rimane dentro la petto oddio cristallo boh oh gesù cristallo via 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 corri veloce via tira il drone via corri 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 metti i punti dentro qua allora poi quando avete i punti no li mettete qua dentro tieni i punti per incassare te li incassi nel culo e vai 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 devi andare più alto sennò dopo qui è tutto un casino vedi dopo devi uccidere quel pisellone laggiù oddio santissimo quanta cacchia forte è quasi morto è quasi morto dove sta ah ah dove stavi andate eh anfrattate ah stavi un po' mi sciallo la ah ah qui dentro qui c'è sta è appena ha ricevuto una mitragliatrice tre due uno un pisello enorme ma dove sta ah è morto è morto è il momento di usare il pisello enorme dai sta muori male no non muore un gesù cristallo ma che culo gigante devi correre male vabbè mi sono rotto il cazzo rambo style vedi vedi poi ci stanno i bimbi micca che giocano il medico è caduto in battaglia vedi 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 non devono non devono perché come cacchio fai a perdere contro il computer please oh dio chi aprono eh ma chi è ma chi è ma chi è è sto coso grazie ah il mio drone che carino no non era io oh si boh sti cazzo madonna mia ma vai moriii state faccio pure il corta no non posso farlo corpo a corpo no che brutto magari mi tirava proprio un bocca cosa be' accelerando assuna ci vorrei gli metterlo nel culo quando faccio questo scatto qua e piu ma sai che male uh uh oh oh bello no say che vi dico rega questo guarda che cazzo le ho uccisi quasi tutti Oh ma vai a sparare Si è infrattato sto cosa Andate tutti a pomigliare con sti proiettili Oli al piombo Oh che carino Beh un po' di merfazione Che? Ecco Ecco Oddio, oddio, oddio che dolore Oddio non lo stai? Eh gli occhietti rossi lì, eh che dolore Oddio, oddio Parco 2 mi pare un'intelligente delle termobili Ah che dolore, aia Oddio è morta, oddio Oddio, oddio, oddio è un alieno Via, via Che carino Fail assurdo Non ha le munizioni Che merda Che fail Non ha le munizioni, bella Non la c... Non devi laggare Oh Devi morire male Parateo Questo cacchio di fungo gigante Ah ah Ti è trasportata Dove sta? Madonna mia mi stanno arando Ma dov'è? Ah 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 Ti ha ripigliato, eh Dove stai? Dove stai? Che bello che sei Allora Mi stai rompendo un po' le palle Molto ho detto Vabbè Sei tu, eh Oh 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 Mori male Mamma mia che ha perduto Ti giuro è la prima volta che uccido un boss Oddio, oddio Ah ah L'ho incassato Che sta il trasmettitore lì? Dove tesoro? Ah che via Tre ce ne stanno Due ce ne stanno No tre Sei un bug Lo stesso è qui Col pisallone Bravissimo Mettile qua dentro Ma io me lo metto a usare Ma oh E li incontro a tutti quanti Prendi le torrette va Eh Dal mortaio Pranf Ma falli usare pure a loro No coglione Le torrette E poi Fali guardi Ho scorreggiato Oddio Cosa vuoi fare? Madonna mia Te sparano i ragnetti Questi Ti apro Cosa state facendo Voi due? Pumisha eh Eh no Col palo Oddio Corri tu corri Aia Corri 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 Non ti prenderanno mai Lo vedi? Uh Dove stanno? E' qui E' uno Vabbè Andiamo col fuggire la zappompa Ah Io ho aperto la testa Madonna L'ho scappellato L'ho scappellato Uh Sono venite tutti da qua Tieni pronto sto cazzo Ah è uno E due E tre Quattro Non sei ferma Allora Stizza un attimo Allora Vamo così Spari i colpetti Guarda come si alza Uh 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 Che bug Ora si ragiona L'altro traspettitore Conquistato No Buh PS Stiamo a perderti Quasi stanno intrettanto tutti Vedo Curati Jesus God 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 Sono malato Sono morto Sono morto Vabbè Fammi gli accudo Dai cazzo Abbiamo perso il pedico Dove stanno Dove stanno Dove stanno Che li apri Vai Sì Corri come un cane Chi è Chi è Chi è Profugo No Vedi questa È la moneta di Infamous Te la metto al culo Da poco faccio il potere del fumo Vedi che ti succede Diventi una ciminiere umana Ti piace l'idea Boh Oh 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 Te stanno a rì Te stanno a rì Ripigliati la vita Corri Vai Via Che ti chiudono qui Signori Profugoli Ecco È morto pure il tattico Stanno a morire tutti Morite tutti Devete morire Dovete Quasi blocca Spai Ti voglio Non lo credo Io sto a morire male Ma mi sono fatto male Ma mi sono fatto male Sei un coglione Basta Ti hai mangiato Questa granata Oh 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 Madonna mia Gesù 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 Non me la sbatta se crepo Ho arato tutti No che c'è un botto di punti Ho arato tutti Via via Fammi li andamette Via via C'è un carico importante nel culetto Vai Mio Ahah Vedi Prio le siringhe Me drogo Un attimo Vai Ah bella ci Me sto drogato Via Ahah 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 Eeeh Qui sembra che spara le graffette Sai quelle cose lì Oh 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 Quello Vabbè raga Qui chiudiamo il video Spero che vi sia piaciuto Secondo noi Se noi secondo noi sta Stà modalità di Kison è spettacolare Spettacolare Cosa? Intercept Certo Buona Mettete un bordello di like Commentate il video Dite se anche voi avete questa modalità L'avete scaricata Tutto il resto Commentate Dategli a voi like Condividete il video Iscrivetevi Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al video Da Nuclea Organi Il channel Qui da Porsche 299 Iscrivetevi È tutto Bella